Sono 41 i lavoratori della ASLA 12 tra medici, infermieri e tecnici che andranno in prepensionamento nel mese di settembre ed è solo l'inizio del piano di esuberi imposto all'azienda sanitaria versiliese dalla sentenza della Corte dei Conti che entro la fine dell'anno porterà l'ospedale Versilia a contare 79 dipendenti in meno senza poter prevedere alcun piano di nuove assunzioni. Numeri che spaventano i sindacati, funzione pubblica CGL in testa e le RSU interne che attendono di sapere dal vice commissario Brunero Baldacchini come verrà riorganizzata la ASLA 12 e i reparti dell'ospedale. Queste 79 persone non potranno essere sostituite perché bisogna rispettare una legge di bilancio. Noi abbiamo di fronte questa nuova organizzazione, un'azienda unica sulla quale noi non abbiamo ancora capito quali saranno gli aspetti organizzativi. Principalmente il timore maggiore è anche quello di capire come verranno riorganizzati i territori perché lì ci sono delle differenze da zona a zona. Il timore dunque è che questa riduzione di personale porti ad una marginalizzazione della piccola ASLA versiliese nella nuova super ASLA accorpata con Lucca e Massa. I sindacati chiedono un confronto con la direzione generale e un sostegno da parte dei sindaci della Versilia. La politica si dovrebbe interessare sempre di più di queste questioni anche perché i tagli che fa il governo nazionale sono tantissimi, forti e quindi vogliamo sapere come poi questi tagli vengono calati su questo ospedale e su tutta la sanità versiliese.